Oggi è venerdì, è il 5 ottobre 2018, non vuoi farti gli 800 metri di corsa come riscaldamento? Poi magari ci aggiungiamo un giochino tutti insieme, un bel Gian Chia Dog Game. Anche in questo caso, se non avete idea di quello di cui stiamo parlando, guardate qui sotto, seguite il link, andate alla scheda della classe sul nostro sito e troverete tutti i link e tutti gli esercizi. A seguire dobbiamo costruire un set molto pesante, quindi non arrivare al massimale ma molto pesante, di 5 deadlift, quindi 5 ripetizioni di deadlift. Alla fine di questo avremo il WOD, si tratta di una Boosted Christine, cioè di una Christine un po' più spinta, dove faremo 3 round 4 time di 500 metri raw, 12 deadlift e 15 box jump, come al solito carichi e scalature nella grafica qui di fianco. Con questo chiudiamo la prima settimana di ottobre, ci vediamo lunedì prossimo, buon weekend su Cipa TV.